Nel settembre del 2016 causò un incidente automobilistico a Roma, nella zona della Balduina, ma invece di soccorre le vittime si allontanò. Per questo Davide Rossi, 32 anni, primo figlio del cantante Vasco, è stato citato in giudizio dalla procura di Roma. Il procedimento è fissato per il prossimi 15 gennaio davanti al giudice monocratico della Capitale per reati di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. Con lui ha processo anche Simone Spadano, 33 anni, che si trovava in auto con lui. Per Spadano, difeso dall'avvocato Fabrizio Consiglio, l'accusa è di favoreggiamento. Il fatto avvenne il 16 settembre di due anni fa. Rossi, a bordo della sua Audi, all'altezza dell'incrocio tra via Donato e via Galimberti, procedendo a velocità elevata, è scritto nel capo di imputazione, non arrestandosi al segnale di stoppa impattato con un'auto sui cui viaggiavano due donne che hanno riportato ferite guaribili in oltre 40 giorni. Dopo lo scontro Rossi non ottemperava all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite, allontanandosi dal luogo dell'incidente subito dopo l'urto. Al secondo indagato viene contestato di aver aiutato il figlio del cantante a deludre le indagini dichiarando di essere stato lui al volante dell'autovettura il responsabile del sinistro stradale sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole di incidente.